Uffa! Ho una pellicina sul dito! Meglio toglierla! Aaaaaaah! Come mai hai quella forma e sei marrone? Perché sono una merdosa! Ti sei ricordato di portare fuori la spazzatura e di mettere nella culla la tua sorellina? Certo mamma! Ops! Prova questa crema ringiovanente! Ok! Ha funzionato! Cara, mi sa che ho sbagliato e ho messo l'acqua frizzante nella ciotola dei pesci! Sei sempre il solito rincitrullito! Amore, grazie mille! Perché? Non sei stato tu a mettere l'idromassaggio? Dobbiamo parlare di una cosa importante che riguarda la nostra relazione! Tu vuoi bambini? Sinceramente no! Ah, meno male! Neanche io voglio bambini! Bambini, dobbiamo parlare! Mi daresti un consiglio legale? Perché lo chiedi a me? Scusa, ma non sei un avocado? Posso usare il telefono un secondo? Ok, prendilo pure! Grazie, qual è il codice di sblocco? È il giorno di compleanno della tua ex! Non funziona! Cosa? Ricordi il compleanno della tua ex? Ti metti con me? No, mi dispiace! Uffa, come mai? Perché ti vedo solo come un'amaca! Vuole lacca nei capelli? Va bene! Ecco qua! Gino, Gino, ti prego, dimmi qualcosa! 6 cose che la mamma odia 1. Quando mangio troppo 2. Quando non mangio 3. Quando esco fuori casa 4. Quando non esco fuori casa 5. Quando dormo troppo 6. Quando non dormo Torta Storta 6. Quando il prof Spiega matematica Fin qui mi sembra tutto molto semplice Poi guardo giù per due secondi Cosa? Stai traslocando? Sì, sgombro! Qui è la torre di controllo Ci dia la sua posizione Mi trovo vicino a una nuvola A forma di Pokémon Cosa? Potrebbe essere più preciso? Pikachu! Guardate questa sagoma E provate a indovinare Che personaggio è questo Dai, è semplice Si capisce benissimo Che è Topolino Cosa dice un inglese A Tarzan Che sta facendo la cacca? Tarzan! Hello! Non puoi battermi Perché? Perché io sono un osso duro E invece posso batterti Perché? Perché sono un tipo toast Cameriere Questo tovagliolo è sporco Strano L'ho dato ad altre sei persone E nessuno si è lamentato So che non ci conosciamo Ma ti volevo dire Che sei bellissima E mi piacerebbe uscire con te Wow! Non avevo mai incontrato Un tipo così diretto Lo so Lo so Sono nuovo A cui piace andare dritto al sodo Cosa dice un bambino Appena caduto in mezzo ai fiori? Ai! Iuola! Che fastidio Quando la gente dice In bocca al lupo Ti assicuro Che ci sono Modi di dire peggiori Abbiamo bevuto Questa sera? E io che ne so Mi chiedo con voi Come mai questi cani Stanno costruendo una casa? Ma è semplice Perché sono In un cantiere Tonto! Lei non può offendermi La dichiaro in arresto Per ortaggio A pubblico ufficiale Sub Juv Lo sai che per comprare una spiaggia Ci vogliono un sacco di soldi? Come mai? Perché la spiaggia Costa Cioccolato Cioccoangolo Dottore È pericolosa L'operazione Che mi farà? No Si tranquillizzi Solo uno su cento Non ce la fa Ah E a che numero siamo adesso? Non ho capito Cozza mi hai detto Amore Ultimamente mi vedo ingrassato Secondo te che c'ho? C'hai ragione La polizia vuole arrestarci Come mai? Perché siamo vestiti ricercati Ho iniziato la giornata Perdendo 600 calorie Wow mitico Fai sport di mattina presto? No È che ho comprato un cornetto con la crema E l'ho dimenticato sul bus Sei la mia best friend Anche tu Avete visto? Due ceramiche Papà Ho una notizia buona E una cattiva Dimmi prima la buona Ho preso 10 in matematica Bravo E la cattiva? Non è vero Perché mi hai infilzata? Perché sono un amo da pesca Preghi prima di mangiare? Sì Mia mamma Cucina malissimo Tra pezzi di carbone Ciao Mario Mi trasferisco lontano Vado a fare l'università Ciao Luigi Spero di rivederti un giorno Ciao Mario Sono tornato Luigi Ma sei tu? Sei diventato un diamante Com'è possibile? Finire l'università Mi ha messo molta pressione Come fanno 4 elefanti Ad andare al mare in 500? È impossibile E invece sì Basta che aspettano gli altri 496 I miss you I miss Ile Caro È tutto il giorno che ti cerco Dove sei finito? Sono al mare Sto guardando Da 4 ore Un hotel Cosa? E perché? Ma come? Sei stata tu a chiedermi Di fissare un hotel Ti vedo motivata? Sì Sono gasata Voglio un caffè Faccia prima il buono alla cassa La prego Per favore Vorrei un caffè Come mai critichi sempre tutto e tutti? Non ci posso fare nulla Mi piace fare il polemico Qual è il fiume più lungo d'Italia? Boh Qual è la capitale d'Italia? Boh Dove si trova il lago Trasimeno? Boh Dai questa la sai di sicuro Qual è la sigla della provincia di Bologna? Ma Ti voglio bene Sei il mio amore Sono andato all'Ikea E ho notato delle cose incredibili Quali? Per esempio Ma lo sai che lì vendono il gelato con la panna a parte? Ah e perché? Perché lì la panna è da montare Ti odio E lo sai che lì ci sono anche le scale mobili? Ti prego Basta freddure Ok smetto Credo che con queste ultime due battute Io abbia reso bene l'Ikea Ciao soldo svizzero È vero che dici sempre la verità? Eh? In che senso? Tutti dicono che sei franco Mi diresti la password del wifi? È un due tre quattro cinque sei Non funziona Te la scrivo io che tu sei un incapace Ma tu hai scritto un codice diverso Hai digitato Due quattro 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 Sei 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 Eh appunto È quello che ti avevo detto io Un due Tre quattro Cinque sei Chi ha fatto fuori Kenny? Lario o Muigi? Io non sono stato Ero da un cliente Perché aveva un rubinetto che perdeva Perdeva? E chi è che stava vincendo? Smettila di fare battute Come idraulico non capisci proprio un tubo Comunque neanche io sono stato a far fuori Kenny Mi stavo preparando per gli esami orali Ehi amiche e amici Ricordatevi di mettere like a questo video Perché a 16.000 mi piace Uscirà subito una nuova compilation di battute Evviva! È uscito il mio nuovo libro Divertimenti! All'interno troverai tantissime battute Freddure Giochi E indovinelli Cosa stai aspettando? Corri subito in libreria a comprarlo Quest'estate Ridi e allena la mente Con divertimenti Daie! E E E E E Grazie a tutti